Faccio snowboard con un cinghiale. Eravamo arrivati ai margini di una piccola località sciistica annidata fra le montagne. Il cartello diceva, benvenuti a Cloudcroft, New Mexico. L'aria era fredda e rarefatta. I tetti delle baite erano coperti di neve che si ammucchiava in sporchi cumuli anche ai lati delle strade. Alti pini si stagliavano sulla vallata, proiettando ombre scurissime nonostante il sole del mattino. Malgrado il cappotto di pelle di leone, stavo congelando quando giungemmo sulla via principale, che era a poco meno di un chilometro dai binari della ferrovia. Strada facendo, raccontai a Grover la mia conversazione della sera prima con Apollo e il suo consiglio di andare a cercare Nereo a San Francisco. Grover, sembrò a disagio. Bene, ma prima dobbiamo arrivarci. Cercai di non abbattermi troppo pensando a ciò che ci aspettava. Non volevo mandare Grover nel panico, ma sapevo che avevamo anche un'altra grossa scadenza incombente, oltre a dover salvare Artemide in tempo per il consiglio degli dèi. Il generale aveva detto che avrebbero tenuto in vita Annabeth solo fino al solstizio d'inverno, ovvero fino a venerdì, e mancavano soltanto quattro giorni. Aveva anche accennato a un sacrificio, e la cosa non mi piaceva per niente. Ci fermammo al centro della città. Da lì si riusciva a vedere quasi tutto. Una scuola, un gruppetto di negozi e di locali per turisti, qualche baita e una bottega di alimentari. «Fantastico!» esclamò Talia, guardandosi attorno. «Non c'è una stazione degli autobus. Niente taxi e niente autonoreggi. Nessuna via d'uscita. «Però c'è un caffè!» esclamò Grover. «Sì!» convenne Zoe. «Il caffè è buono!» «E anche i dolci!» aggiunse lui in tono sognante. «E la carta oleata!» Talia sospirò. «E va bene. Voi due andate a prendere un po' di cibo per tutti. Persi, Bianca e io facciamo un salto alla bottega. Forse ci possono dare delle indicazioni. Concordammo di ritrovarci di fronte all'alimentari 15 minuti dopo. Bianca sembrò a disagio venire con noi, ma non protestò. Nella bottega scoprimmo due o tre cosette utili su Cloudcroft. Non c'era abbastanza neve per sciare, i ratti di gomma costavano un dollaro l'uno e non c'era un modo facile per raggiungere o lasciare la città, a meno che non avessi la macchina. «Potete far salire un taxi da Lamo Gordo?» suggerì il commesso in tono dubbioso. «È in fondo alle montagne, ma ci metterà almeno un'ora a venire quassù. Dovrete spendere diverse centinaia di dollari. Il tizio aveva un'aria così desolata che comprai un ratto di gomma. Poi uscimmo e ci fermammo sotto il portico. «Magnifico!» pronto l'Otalia. «Faccio un giro per gli altri negozi. Vediamo se qualcun altro può suggerirci qualcosa». «Ma il commesso ha detto, lo so, mi interruppe lei, però controllo lo stesso». La lasciai andare. Sapevo cosa significasse sentirsi irrequieti. Tutti i mezzosangue hanno problemi di deficit dell'attenzione per via dei riflessi da combattimento innati. Non sopportiamo di starcene fermi ad aspettare. E poi avevo la sensazione che Talia fosse ancora turbata per la nostra conversazione della sera prima su Luke. Io e Bianca restammo lì, imbarazzati. Cioè, già non ero mai molto a mio agio a parlare da solo con una ragazza in generale. In più, era la prima volta che mi capitava con Bianca. Non sapevo cosa dire, soprattutto adesso che era una cacciatrice. «Carino il ratto», disse infine lei. «Lo posai sul parapetto del portico. Forse avrebbe attirato più gente alla bottega». «Allora, ti piace essere una cacciatrice?» chiesi. Lei storse la bocca. «Non ce l'hai più con me per la mia scelta?» «Ma no, basta che, insomma, tu sia felice». «Non credo che felice sia la parola giusta, considerata la scomparsa di Artemide. Ma essere una cacciatrice è proprio forte. In un certo senso, mi sento più calma. Tutto sembra essersi rallentato attorno a me. Immagino che sia l'effetto dell'immortalità». «La studiai, cercando di cogliere la differenza. In effetti, sembrava più sicura di prima, più serena. Non nascondeva più il viso sotto un berretto verde, teneva i capelli legati all'indietro e mi guardava dritto negli occhi mentre parlava. Con un brivido, mi resi conto che a distanza di cinque secoli o mille anni da quell'istante, Bianca di Angelo sarebbe stata tale e quale ad allora. Forse avrebbe avuto una conversazione del genere con qualche altro mezzosangue dopo che io ero morto da un pezzo, ma avrebbe sempre e comunque dimostrato dodici anni. «Niko non ha capito la mia decisione», mormorò Bianca. Mi guardò come in cerca di rassicurazione. «Stara benone», dissi. «Il campo mezzosangue accoglie un sacco di ragazzini. È successo anche ad Annabeth. Bianca annui. Spero che riusciremo a trovarla. È fortunata ad avere un amico come te. Si è visto. Non è colpa tua, Percy. Hai rischiato la vita per salvare me e mio fratello. Insomma, è stata una cosa davvero coraggiosa. Se non ti avessi conosciuto, non mi sarei fidata a lasciare Nico al campo mezzosangue. Ma ho pensato che se lì c'erano persone come te, si sarebbe trovato bene. Sei un bravo ragazzo». Il complimento mi colse di sorpresa. «Anche se durante la partita ti ho steso?» Lei rise. «Ok. A parte questo, sei un bravo ragazzo». A poche centinaia di metri di distanza, Grover e Zoe uscirono dal caffè carichi di buste con la roba da bere e da mangiare. Un po' mi seccava che fossero già di ritorno. Era strano, ma mi accorsi che mi piaceva parlare con Bianca. Non era tanto male. E comunque, era molto più facile passare del tempo con lei che con Zoe Nightshade. «Allora, come vivevate tu e Nico?» le chiesi. «Dove andavate a scuola prima di Westover?» Lei si accigliò. «Mi pare che fosse un collegio a Washington. Sembra passato talmente tanto tempo. Non avete mai vissuto con i vostri genitori? Cioè, con il vostro genitore mortale?» «Ci dissero che i nostri genitori erano morti. C'era un fondo bancario per noi. Un sacco di soldi, credo. Un avvocato veniva a trovarci di tanto in tanto per vedere come stavamo. Poi, però, dovemmo lasciare quella scuola. Perché?» «Agrottò la fronte. Dovevamo andare da qualche parte. Ricordo che era importante. Facemmo parecchia strada. E restammo in quell'hotel per un po' di settimane. E poi... Non lo so. Un giorno venne a prenderci un altro avvocato. Disse che era ora che ce ne andassimo. Ci riportò in macchina sulla costa orientale, prima a Washington, poi nel Maine. E iniziamo a frequentare la Westover. Era una storia strana. Ma del resto, Bianca e Nico erano dei mezzo sangue. Niente poteva essere normale per loro. «Così hai cresciuto, Nico, da sola praticamente per tutta la vita?» Chiesi. «Siete sempre stati solo voi due?» Lei annui. «Ecco perché ci tenevo tanto a unirmi alle cacciatrici. Insomma, lo so che è egoistico, ma volevo una vita mia, delle amiche. Voglio bene a Nico, non mi fraintendere, ma avevo bisogno di scoprire come si sta a non fare la sorella maggiore a tempo pieno. Ripensai all'estate prima, a come mi fossi sentito quando avevo scoperto di avere un ciclope per fratello. riuscivo a capire bene quello che Bianca mi stava dicendo. «Zoe sembra affidarsi di te», continuai. «Di che cosa stavate parlando, a proposito? C'è un pericolo particolare nell'impresa?» «Quando?» «Ieri mattina al padiglione», risposi, prima che riuscissi...» «Spetta». «Ieri mattina al padiglione», risposi, prima che riuscissi a fermarmi. era qualcosa a proposito del generale. Lei si rabbuiò. «Ma come hai... il berretto dell'invisibilità? Ci stavi spiando? No, cioè... non proprio. Ero solo...» L'arrivo di Zoe Grover con i viveri mi salvò dalle spiegazioni. Cioccolata calda per me e Bianca, caffè per loro. Mi diedero un muffin ai mirtilli, ed era così buono, che quasi non feci fatica a ignorare gli sguardi indignati che Bianca mi stava lanciando. «Dovremmo rifare l'incantesimo del battitore», disse Zoe. «Grover, ti sono rimaste delle ghiande?» «Mh...» borbottò lui. Stava masticando un muffin integrale, con la carta e tutto. «Credo di sì. Devo solo...» Si bloccò. «Stavo per chiedergli cosa gli fosse preso, quando ci sentimmo sfiorare da una tiepida brezza, come se una folata di vento primaverile si fosse smarrita nel colmo dell'inverno. Una corrente d'aria pura, profumata di sole e fiori selvatici. E c'era anche qualcos'altro. Quasi una voce, che cercava di dire qualcosa. Un avvertimento. Zoe trasalì. «Grover, il tuo bicchiere!» Grover lo lasciò cadere a terra. Era decorato con delle immagini di uccelli, uno stormo di colombe in miniatura. All'improvviso, si staccarono dal bicchiere e volarono via. Il mio ratto di gomma squittì. Zampettò via dal parapetto e si tuffò in mezzo agli alberi, baffi e pelliccia autentici al cento per cento. Grover svenne e crollò accanto al suo caffè che emanava vapore a contatto con la neve. Cercammo di svegliarlo, ma lui rispose con un gemito, sbattendo le palpebre. «Ehi!» esclamò Talia, accorrendo dalla strada. «Ho appena...» «Cosa, Grover?» «Non lo so!» risposi. «È svenuto!» gemette lui. «Beh, fatelo alzare!» replicò Talia. Aveva la lancia in mano. Si guardò alle spalle come se fosse inseguita. «Dobbiamo andarcene di qui!» Eravamo ai margini del paese quando comparvero i primi due guerrieri scheletro. Sbucarono dagli alberi ai lati della strada. Al posto della mimetica adesso indossavano le uniformi blu della polizia del New Mexico, ma avevano comunque la pelle grigia e trasparente e gli occhi gialli. Estrassero le pistole. Lo ammetto, una volta pensavo che sarebbe stato forte imparare a sparare, ma cambiai idea non appena i guerrieri scheletro mi puntarono le pistole contro. Talia attivò il suo braccialetto. L'egida si spalancò, ma i guerrieri non batterono ciglio. Continuarono a fissarmi con i loro occhi gialli e luccicanti. Sguainai vortice, anche se non sapevo a cosa potesse servirmi contro le pistole. Zoe e Bianca tesero gli archi, ma Bianca stava avendo qualche problema con Grover, che continuava a svenirle addosso. «Ritiriamoci!» ordinò Talia. Stavamo per farlo quando udì frusciare dei rami. Altri due scheletri comparvero sulla strada, alle nostre spalle. Eravamo circondati. Mi chiesi dove fossero gli altri. Allo Smithsonian ne avevo visti dodici. Poi, uno degli scheletri si portò un cellulare alla bocca e cominciò a parlare. Solo che non parlava. faceva un rumore strano, come un acciottolio di denti secchi sopra un osso. A un tratto capì cosa stava succedendo. Gli scheletri si erano separati per cercarci. E quelli che ci avevano trovati, adesso stavano chiamando i loro compari. Presto avremmo avuto a che fare con tutta la compagnia. «È vicino!» gemette Grover. «È qui!» replicai. «No!» insistette lui. «Il dono! Il dono delle selve!» Non sapevo di cosa stesse parlando, ma ero preoccupato per lui. «Non era in grado di camminare, figuriamoci di combattere.» «Dobbiamo affrontarne uno a testa!» decise Talia. «Loro sono quattro!» «Noi siamo quattro!» «Forse così lasceranno stare Grover.» «D'accordo!» esclamò Zoe. «Le selve!» mugugnò Grover. Un vento tiepido attraversò il canyon, facendo stormire gli alberi, ma io tengmi gli occhi puntati sugli scheletri. ripensai al generale che esultava per la sorte di Annabeth. Ripensai al modo in cui Luke l'aveva tradita. E attaccai. Il primo scheletro fece fuoco. Il tempo rallentò. Non è che potessi vedere la pallottola, ma riuscivo a percepire la sua traiettoria, come mi succedeva con le correnti dell'oceano. La deviai con il filo della spada e continuai ad avanzare. Lo scheletro estrasse un manganello e io gli immozzai le braccia all'altezza dei gomiti. Poi gli affondai vortice nel petto, tagliandolo in due. Le ossa si disfecero, crollarono sull'asfalto. E quasi nello stesso istante cominciarono subito a ricomporsi. Il secondo scheletro digrignò i denti, mi prese di mira e cercò di fare fuoco. Ma lo disarmai gettando la pistola nella neve. pensavo che me la stessi cavando piuttosto bene, finché gli altri due non mi spararono alle spalle. Persi! gridò Talia, caddi bocconi in strada. Poi mi resi conto che non ero morto. L'impatto delle pallottole era stato sordo come una spinta, ma non mi avevano ferito. La pelliccia del leone ne meo! il mio cappotto era antiproiettile. Talia attaccò il secondo scheletro. Zoe e Bianca cominciarono a bersagliare di frecce il terzo e il quarto. Grover se ne stava fermo là con le braccia tese verso gli alberi come per abbracciarli. E nella foresta alla nostra sinistra si udì uno schianto come di un bulldozer. Forse i rinforzi degli scheletri stavano arrivando. Mi rialzai e schivai una manganellata. Lo scheletro che avevo lo scheletro che avevo tagliato in due si era già ricostituito e ce l'aveva con me. Era impossibile fermarli. Zoe e Bianca miravano alla testa ma le frecce attraversavano in vano i teschi vuoti. Un guerriero si scagliò su Bianca e pensai che fosse spacciata. Poi lei estrasse il pugnale da caccia e glielo conficcò nel petto. Lo scheletro esplose avvolto dalle fiamme riducendosi in un mucchietto di cenere e in un distintivo per terra. Come hai fatto? chiese Zoe. Non lo so rispose Bianca nervosa. Un colpo di fortuna? Beh fallo di nuovo. Bianca ci provò. Ma i tre scheletri rimasti ormai diffidavano di lei e ci pressavano tenendoci a distanza con i manganelli. Qualcuno ha un piano? domandai mentre arretravamo. Nessuno rispose. Gli alberi alle spalle degli scheletri stavano tremando. I rami si spezzavano. Un dono mormorò mormorò Grover e poi con un possente ruggito il maiale più enorme che avessi mai visto piombò in mezzo alla strada. Era un cinghiale alto quasi dieci metri con il grugno rosa pieno di moccio e le zanne grosse quanto due canoe. La groppa era ispida di setole marroni e gli occhi erano folli e imbizzarriti. Grugnì e spazzò via gli scheletri con le zanne. La spinta fu così forte che i guerrieri volarono sopra gli alberi e finirono sul fianco della montagna schiantandosi in una pioggia di omeri femori e tibie. Poi il maiale si voltò verso di noi. Talia sollevò la lancia ma Grover strillò non ucciderlo il cinghiale grugnì e pestò le zampe a terra pronto ad attaccare quello è il cinghiale di rimanto spiegò Zoe cercando di restare calma non penso che possiamo ucciderlo è un dono ripete Grover una benedizione dalle selve il cinghiale emise un grugnito e agitò le zanne Zoe e Bianca si tolsero di mezzo con un tuffo io dovetti spintonare Grover per impedirgli di farsi spedire sulla montagna a bordo del cinghiale express sicuro mi sento proprio benedetto esclamai sparpagliamoci corremo tutti in direzioni diverse e per un attimo il cinghiale fu confuso vuole ammazzarci esclamò Talia ovvio replicò Grover è un animale selvatico allora perché dici che è una benedizione chiese Bianca a me sembrava una domanda legittima ma il maiale se la prese e la attaccò per fortuna Bianca era più veloce di quanto mi fossi reso conto rotolò sotto gli zoccoli della bestia e rispuntò alle sue spalle mentre lui polverizzava il cartello benvenuti a Cloudcroft con le zanne mi arrovellai cercando di ricordare il mito del cinghiale ero sicuro che Ercole lo avesse affrontato una volta ma non riuscivo a ricordare come l'avesse battuto avevo il vago ricordo della bestia che radeva al suolo diverse città della Grecia prima che lui riuscisse a sottometterla sperai che Cloudcroft fosse assicurata contro gli attacchi dei cinghiali giganti continuate a muovervi gridò Zoe lei e Bianca corsero in due direzioni opposte Grover ballava attorno al cinghiale suonando il flauto mentre il mostro sbuffava e cercava di infilzarlo ma il primo premio della sfortuna lo vincemmo io e Talia quando l'animale si voltò verso di noi Talia fece l'errore di sollevare l'egida la vista della testa della medusa fece grugnire la bestia di sdegno forse somigliava un po' troppo ai suoi parenti e ci attaccò riuscimmo a mantenere le distanze solo perché correvamo in salita e potevamo schivare gli alberi che per lui invece erano un ostacolo dall'altra parte della collina trovai un vecchio tratto di ferrovia mezzo sepolto nella neve di qua afferrai Talia per un braccio e ci mettemmo correre lungo le rotaie mentre il cinghiale ruggiva alle nostre spalle inciampando e scivolando di continuo nello sforzo di avanzare sulla salita ripida non aveva gli zoccoli adatti grazie agli dei poi di fronte a noi vidi un tunnel e subito dopo c'era un vecchio ponte a traliccio che valicava una gola ebbi un'idea folle seguimi Talia rallentò non ebbi il tempo di chiederle il perché ma io continuai a trascinarla e lei mi seguì con riluttanza alle nostre spalle un carro armato suino di dieci tonnellate abbatteva pini e sgretolava massi sotto gli zoccoli corremmo dentro il tunnel e sbucammo dall'altra parte no strillò Talia era diventata pallida come un pezzo di ghiaccio eravamo sul bordo del ponte sotto di noi la montagna digradava in una gola innevata di oltre 20 metri di profondità il cinghiale era proprio alle nostre spalle coraggio la incitai dovrebbe farcela a sostenere il nostro peso non posso gridò lei aveva gli occhi folli di paura il cinghiale imboccò il tunnel a tutta birra ora gridai a Talia lei guardò giù e deglutì giuro che stava diventando verde non avevo il tempo di chiedermi perché il cinghiale stava attraversando il tunnel come un ah il cinghiale stava attraversando il tunnel come un razzo e puntava dritto verso di noi piano B abbrancai Talia e mi scaraventai con lei oltre il bordo del ponte sul fianco della montagna scivolammo sull'egida come su uno snowboard superando rocce fango e neve alla velocità della luce il cinghiale fu meno fortunato non riuscì a sterzare altrettanto in fretta perciò si ritrovò con tutte e dieci le sue tonnellate sul ponticello che si incurvò sotto il suo peso il mostro piombò in caduta libera nella gola con un possente acuto grugnito atterrando su un grosso mucchio di neve con un sonoro puff io e Talia frenammo lo scudo avevamo il fiato grosso io ero ferito e sanguinavo Talia aveva degli aghi di pino impigliati fra i capelli accanto a noi il cinghiale guaiva e si divincolava solo la sommità irsuta della groppa era visibile il resto era incastrato nella neve come in una confezione di polistirolo non sembrava ferito ma era comunque bloccato guarda Italia tu soffri di vertigini ora che eravamo sani e salvi ai piedi della montagna aveva recuperato l'abituale espressione arrabbiata non essere stupido ecco perché hai dato di matto sul minibus di Apollo ed ecco perché poi non hai avuto voglia di parlarne lei fece un respiro profondo poi si liberò degli aghi fra i capelli se lo dice a qualcuno giuro che no no la rassicurai non c'è problema solo che la figlia di Zeus il signore del cielo che soffre di vertigini stava per mollarmi un pugno e scaraventarmi nella neve quando sopra le nostre teste la voce di Grover chiamò ci siete qua giù gridai qualche minuto dopo Zoe Bianca e Grover ci raggiunsero restammo lì a guardare il cinghiale che si divincolava nella neve una benedizione delle selve esclamò di nuovo Grover anche se ora sembrava agitato hai ragione convenne Zoe dobbiamo sfruttarla fermi tutti sbottò Talia seccata sembrava ancora reduce da un pessimo scontro con un albero di Natale spiegatemi perché siete così sicuri che questo maiale sia una benedizione Grover le lanciò un'occhiata distratta è il nostro passaggio per l'ovest hai idea di quanto sia veloce questo cinghiale divertente commentai come in un rodeo di maiali Grover annui dobbiamo salire a bordo vorrei vorrei avere più tempo per guardarmi attorno ma ora se n'è andato che cosa lui non sembrò sentirmi nemmeno si avvicinò al cinghiale e saltò sulla sua groppa la bestia si stava già facendo un po' di strada nella neve una volta libero sarebbe stato impossibile fermarlo Grover tirò fuori il suo flauto cominciò a suonare un motivetto allegro e lanciò qualcosa davanti al mostro era una mela che rimase a volteggiare in aria proprio sopra il muso del cinghiale facendolo impazzire per lo sforzo di acchiapparla sterzo automatico mormorò talia fantastico poi si trascinò a fatica fino alla bestia e saltò in groppa dietro a Grover lasciando spazio in abbondanza per il resto di noi Zoe e Bianca fecero per imitarla aspettate un attimo protestai voi due sapete di cosa sta parlando Grover cos'è questa benedizione selvatica naturalmente rispose Zoe non l'hai avvertita anche tu nel vento era così intenso non avrei mai pensato di percepirne di nuovo la presenza quale presenza mi squadrò come se fosse un idiota il signore delle selve naturalmente solo per un istante all'arrivo del cinghiale ho avvertito la presenza di Pan